Al via la riqualificazione degli alloggi di edilizia popolari di competenza comunale situati in via delle Acace, via delle Robinie, via Parati e via dei Platani a Chieti. I tempi e le fasi della riqualificazione imminente sono stati illustrati dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dagli assessori alle politiche della Casa e Lavori Pubblici, Raimondi e Rispoli, dai consiglieri di maggioranza. Ascoltiamo il primo cittadino di Chieti. Oggi presenteremo un progetto di 1.800.000 euro per la riqualificazione delle casse popolari di questa zona che riqualificheranno la qualità di queste abitazioni e di chi ne occupa la posizione da anni. Posso dire che sarà solo l'inizio di una serie di interventi perché abbiamo un vasto patrimonio immobiliare che va sicuramente riadattato. All'incirca quante palazzine sono e di quante famiglie si tratta? Allora, sono sei palazzine e penso che il numero totale di famiglie sono almeno una sessantina. Ecco, i fondi da dove saranno presi? Sono presi da fondi ministeriali per la riqualificazione, diciamo, urbana. Quando inizieranno i lavori? I lavori inizieranno sicuramente prima della fine dell'anno. E quando potranno essere conclusi? Già si può fare una previsione? Assolutamente sì, penso che si tratti di pochi mesi. Chiaramente pensiamo che per la primavera prossima avremo tutta la ristrutturazione già pronta, già fatta. Allora, queste sono palazzine che stanno qui dagli anni 50. Allora, questa è la primavera prossima.